buongiorno abbiamo con noi il dottor walter marrocco responsabile scientifico della finge oggi si celebra nei 30 anni della società italiana dei farmacisti preparatori e in occasione della celebrazione c'è un congresso nazionale e vogliamo chiederle un commento sull'attività di questa importante società e il ruolo che svolge la galenica per la medicina generale sicuramente la galenica nasce dal nostro percorso formazione universitaria però credo che vada sicuramente ripreso rinfrescato rinvigorito perché la galenica riteniamo come medici di famiglia che abbiamo un grosso spazio sicuramente per tutto quello che può essere la personalizzazione della terapia ma anche rafforzare il rapporto di fiducia medico paziente che si gioverebbe anche del rapporto di fiducia che il paziente ha con il farmacista credo che vada comunicato con più forza più vigore la l'importanza della galenica che si giova anche di tecnologie estremamente moderne di una normativa a livello sia nazionale europeo che da garanzia al cittadino della qualità la galenica può essere anche uno strumento di supporto nel momento in cui possiamo avere delle carenze oppure nella personalizzazione delle terapie lì dove gli strumenti terapeutici possono dimostrare delle carenze ma fatta comunicazione e formazione anche nei confronti della categoria dei medici grazie a tutti grazie a tutti